let's go baby benvenuti a questo video una piccola cosa non so se molti di voi lo sanno ma sto facendo in questo caso uno streaming di beneficenza ogni sera dalle 9 fino a circa mezzanotte sono in streaming in questo caso a giocare a overwatch o comunque sempre ad altri giochi si vedete pure il cappellino di natale proprio fatto apposta per fare un regalo comunque un qualcosa di carino anche alle persone che magari non possono permettersi di fare un natale come facciamo tutti noi quindi questo streaming è anche offerto in questo caso da blizza da overwatch italia che mi stanno supportando per questo streaming mettendomi proprio in questo caso nel riquadro sul battlenet mi potete vedere che se entrate sul battlenet sul pc che sono tra gli streamer spotlight in questo caso di overwatch io spero vi piaccia questa iniziativa che abbiamo fatto assieme a loro spero vi piacciono anche il nuovo look con i baffetti e il cappello di natale io vi saluto spero verrete in tanti spero aiuterete comunque queste persone a fare questo regalo verrà donato il tutto il 25 o il 26 euro devo vedere cosa è aperto e come fare verrà donato tutto in beneficenza voglio fare per una volta qualcosa di costruttivo io vi saluto spero ci sarete in tanti let's go baby ok ok